Spazierà dall'analisi tossicologica avanzata alla semplificazione, alla modernizzazione e all'ottimizzazione dei processi di lavoro e delle attività degli uffici giudiziari della Procura di Napoli l'intervento dell'Ateneo Federiciano previsto nell'ambito di un nuovo protocollo d'intesa. È stato infatti firmato dal Procuratore Giovanni Colangelo e dal Rettore Gaetano Manfredi, alla presenza del Procuratore della DDA di Napoli Giuseppe Borrelli, l'accordo quadro tra l'Università degli Studi di Napoli Federico II e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. L'accordo prevede che le due istituzioni congiuntamente individueranno attività di ricerca applicata finalizzate alla valorizzazione dei processi di innovazione tecnologica e di semplificazione e modernizzazione dei processi di lavoro degli uffici giudiziari. Ascoltiamo Manfredi e Colangelo. Il nostro è un rapporto tra due grandi istituzioni. L'obiettivo è quello di fare in modo che le nostre competenze, sia dal punto di vista dipartimentale ma anche come i nostri studenti che facendo attività di tirocinio, queste nostre competenze possono dare un supporto a quelle che sono le attività giudiziarie. Già abbiamo sperimentato delle iniziative congiunte che hanno avuto dei risultati molto positivi. In realtà questo è un protocollo nel solco di una tradizione che ormai dura da tempo tra la prestigiosa e famosa Università Federico II che dispone di professionalità e che è un'istituzione importante per la città e la Procura della Repubblica che ha bisogno di queste professionalità. In questo ambito il supporto dell'università e il reciproco scambio di esperienze può essere utile ad entrambe le istituzioni.